Prepararsi a salvare! Prepararsi a salvare! Prepararsi a salvare! Premi in posizione! Andiamo! Pronti a combattere! Comandate! Andiamo! Perciò guardare? Perciò guardare! Perciò guardare ma la luce! Con la luce e riusciano! Nelentevi! Arcevi! Preparatevi! Vero! Sono tagli a coltire! Velocità di sparamento! Il nemico sta per coltire! Arrendare! Alla forma di noi! Avono le troppe! Vanno per colpirci! Lancia! Spostiamoci prima che ci mettono al basso! Più piano! Vogliono attaccarci ora! Sì, conquistano! Grazie! Piallo! Preparatevi! Abbordiamo quei bastardi! Abbordiamo! Arcieri, tocca a voi! Stanno per avvertire! Attenzione alle frecce! NEMICO ALL'ATTACCO! Occhio! Lancia! Lancia! Corre! Facciarele bene! Via, via! Prematori, rallentare! Pronti all'attacco, NEMICO! Andiamo! Abbiamo seminati la navigazione strada! Così andiamo! Sì! 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 Naso! Sembra sicura! Abbiamo fatto grandi cose per il suo popolo! Ma ora, dobbiamo allontanarci da queste coste e distruggere la setta! Sono dappertutto e in nessun luogo! Hanno innumerevoli seguaci! Da dove cominciamo? Taglieremo le teste della bestia una alla volta! Finché non sarà cieca e inerme! Sparta! Sparta! Lì ho ancora influenza e alleati! Ripulliamo la nostra casa dalla setta e facciamone un esempio per il mondo! Sarà pericoloso! La loro stretta su Sparta è forte! Non credi sia ora di tornare? Insieme! Ho ancora alcune cose da fare qui! Appena sarai pronta faremo vela per la Laconia! Credo che tu debba fare qualcosa prima! Cosa? Devi trovare tuo padre! Chi è? È un uomo complicato da descrivere! È molte cose! Ma l'unico modo per conoscerlo davvero è incontrarlo di persona! Quindi non me lo dirai ora! Ci sono dei dettagli che solo lui può darti! Spero che ti sarà chiaro quando lo incontrerai! Troverai ciò che cerchi sull'isola di Terra! Ho mostrato la ruta al tuo navigatore! Ci vedremo in Laconia! Ci sarò! Che Poseidone ti protegge! Buon viaggio! Terra! Terra! Chi è un bravo aquilotto? Per fare vagy! Non!